massimiliano varrese da più di tre mesi rinchiuso nella casa del grande fratello quest'oggi la spara veramente grossa lui soprannominato dal web il guru con questo nomignolo alcuni utenti del web hanno cominciato a deridere anche le sue uscite e una soprattutto ha attirato l'attenzione dei social quale sarebbe ragazzi è questa pare infatti a detta sua che massimiliano avrebbe ceduto a johnny depp il ruolo di jack sparrow in pirati dei caraibi questo perché dice lui ne aveva bisogno massimiliano varrese oltre a essere un appassionato di arte e culture orientali è prima di tutto un attore e proprio durante i fatti una chiacchierata con altri compagni di avventura il gfino ha rivelato in modo molto convinto che lui doveva fare la parte di jack sparrow nei pirati dei caraibi conosco bene dice infatti massimiliano johnny depp e mi disse che lui aveva bisogno di lavorare e quindi gli lasciai quella parte d'accordo proprio con la disney quindi anche un buon cuore questa uscita dir poco surreale ragazzi c'è massimiliano che prende il posto di johnny depp sarebbe veramente da ridere però ha scatenato rironia dei social soprattutto su twitter e in tantissimi hanno commentato con frasi del tipo vi prego aiutate lo sta derilando e voi cosa ne pensate scrivetemelo giù nei commenti lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima